Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Praticamente oggi giocheremo a Monopoly Empire. Qua abbiamo già posizionato tutto. Qui ci sono i personaggi, Transformers, il Peter Pillar, la racchetta, l'Xbox, la scarpa della Kuma e la macchina. E la macchina della Kuma. Già abbiamo sistemato i soldi, già abbiamo sistemato il tavolo. Allora si fanno con due pezzi da 50, quattro pezzi da 100 e un pezzo da 500. Qui sotto ci sono i soldi, il banchiere. Noi ovviamente qua di fianco abbiamo il libretto per non sbagliarci. L'Empire e gli imprevisti. Qua ci sono tutte le manche. Quindi adesso uno di noi due sceglierà il suo per iniziare la partita. Vuoi scegli il tuo? Allora, ma scegli prima tu. Allora io mi prendo il joystick della Xbox. Non vi faremo vedere tutta la partita, ma vi faremo vedere solo uno spezzone di partita, se no qua non la finiamo più. E io prendo la macchinina. Questi qua li spostiamo. Però la testa è pesante. No, ma sono fatte in metallo, non sono fatte in plastica. Iniziamo. Iniziamo. Con i dati. Questo qua serve per lo scambio obbligatorio. Iniziamo? Prima che sceglie facciamo il numero più alto come si fa di solito. Sette? Per te? No! Prima e poi chi inizia. Anche se siamo io. Cinque. Inizio io. Sette? Ok. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Chi ha? Polaroid. Quanto costa? Cento. Beh, dammi il Polaroid. Dammi questo qua verde, perché siamo più vicino. Qua è? Sì. Ok. A lei. I soldi li mettiamo qua? Sì. Quattro più tre. Sette. Sette. Allora. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Oltre. Non c'è? Non c'è un'altra cosa che la Polaroid. Non dove si dà i miei soldi, scusami. Non è così il gioco? Sì. Allora. Vieni. 12. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Chi dà ieri? Due, cinquanta. Due, cinquanta. Due, cinquanta. Dopo che la banca? Mettiamo qua? Sì. Così poi... Mettiamo. Ok. Tocca a te. Otto. Otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Imprevisti. Imprevisti. Legga. Tocca a Polta. Andate in prigione per frode. Se passate dal via non potrete incassare alcuna somma di denaro. Sei un poveraccio. Vuoi incassare? No, dove si fa il giro. Così? No, in prigione... No, questo entra. Allora... Allora, se passate dal via non potete... Allora, andate in prigione per frode. Ok. Se passate dal via non potrete incassare alcuna somma di denaro. Sì, ma da qua poi devi andare là, quindi i soldi non te li devi prendere. Eh no. Eh no. Allora la lascia qua. No. Devi andare lo stesso in carcere. Ok. Fatto. Perché da qua ti trasporta di là. Eh no. Essendo che poi passi dal via non ti devi prendere soldi. Ah, posso. Eh. Oh, io un monopoli non è che ci gioco tanto. Io... Io so sempre che da bravo. Mi ha costretto. Sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E bei. Dai, prendiamoci bei. Trecento. Trecento pallette. Sono povera, adesso ci sono cinquecento. Ok. Ma veramente questo qua lo devi mettere sotto. All'ultimo. Sai. Ma sento che se incaccio non puoi farlo. Mh. Perché devi saltare un turno. Sì. Dovete saltare tre volte. Mh. Mh. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. E nove. Chi ha? Hai un... Un quattrocento su... Beats by... Sì, quello lì delle marche famose. Sette. No, non lo prendo perché sono cinquecento. Ok. Devi tirare fuori prima di uscire. Eh? Tre volte. Dopo tre giri. Così già secondo? Sì. Cinque. Cinque. Scambio più uno. Sì. Scambio forzetto più uno. E che significa? Sì. Sì. Eh, però non c'è scritto qua. Vedi se... Vedi avanti scusate ma oggi è... Blacco un secondo? Sì. Ci diamo tre volte. Eh... La rifacciamo perché non c'ha nelle... Le infezioni. E di nuovo rifaccio. E rifaccio. Va bene. Questo è un test di... Come giocare dopo... Otto. Otto. Una, due, tre, quattro, cinque, sette, sette e otto. Aspetta che devo prendere i soldi. Allora... 50k. Ok. L'ultima volta. No. Dopo esco dalla prigione. Fatta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette. Bene visti. Concessioni un parco di energia solare al titolo gratuito. Prendete senza pagare nulla l'insegnio a società elettica. Mettete il vostro cattacielo. Se vi fossero più insegni disponibili non fate nulla. Ok. Metti sotto l'ultima. Mettete il vostro cattacielo. E adesso usciamo dalla prigione. Sì. Sette. 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 Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette. Candy crash. Candy crash. Duecento. Una. E due. Io li metto qua. Opla. Questo si fa alla fine. Alla fine, sì. Poi ci vedrai il grattacielo. Bra. Uno, due, tre. Parcheggio. Parcheggio gratuito. Oppure. Parcheggio gratuito. Se finite su questa casella potete prendere un turno di riposo e quindi non fare nulla. Oppure ripartire immediatamente per una nuova destinazione pagando alla banca una somma di 100k. E spostate una casella a vostra scelta. Salvo il parcheggio gratuito è la seconda volta. Se passate dal via incassate il consulente o valore il consulente del vostro cattacielo. Sì, vabbè. Sto ferma lì. Noi doggio. Noi ci doggio. Lì non è. Oh! Dalla vadovi a poter mettere le manine. Che ci sono i cani qua. Abbiamo problema qua di spazio. Vai. Ehi tia! Mi scivola. Dai. Otto. Otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette. Empire. Così vedo anche in Empire. In Empire. Assolutamente no. Giocate questa carta in qualsiasi momento della partita per opporvi a qualsiasi sezione di qualsiasi altro giocatore ai vostri danni. Quindi per adesso mettere il polavoro. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Quando sono sei? Sette, otto, nove, dieci. No, dieci. Sette. Una, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, nove e dieci. Lo vuoi comprare 300k. No. Che sap. Anche se il tavolo lo possiamo ingrandirlo. Hai fatto la stessa cosa mia? Dieci. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, no, dieci. Sì. Tas... Gratuita. No, tassa sui gattacieli di russo. Aspetta che non vi ricordo quanto è la tassa. Allora. Ci lo paga pure le tasse. Tassa sui gattacieli di russo quando finito su questa casella dovete rimettere sul tavolo l'insegna che si trova più in alto del vostro gattacielo. Tu non hai niente. Niente. Sono poveretto. No. Io sono Candy Crash È il diamante, vero? Sì Sette Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette Vuoi? No Facciamo un basta così e non andiamo avanti? No, facciamo un ultimo giro Faccio un ultimo giro io Metti la mano Piano Cinque Uno, due, tre, quattro e cinque Mi prendo Transformers Cinquanta Grazie Tieni Ciò mettiamo qua Ok ragazzi, questo è tutto Noi adesso andiamo avanti Se no qua il video dopo si dilunga troppo Vediamo poi alla fine che avrà costruito il palazzo E chi ha vinto Ci vediamo tra poco Ci vediamo tra poco Ciao a tutti Ciao a tutti Ben ritornati E siete ritrovati qua nella parte finale del monopoli Empire Praticamente ha vinto lei The winner is The winner is Fai vedere qua come è finita Ecco il suo grattacielo Con tutte le marche E questo è il mio Non sono riuscito a completarlo Bene Per questo video è tutto Girerò subito un altro video Per favore di un collega Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al nostro secondo canale E stilosi dei videogame Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao